Il caso di Lignano dell'estate 2021 quando una 18enne denunciò la violenza subita da 5 ragazze è stato archiviato dal giudice. La versione resa era gravata da numerose inverosimiglianze e non riscontrata dagli accertamenti sanitari. Polemica nella città ducale dopo i volantini diffusi dal comune in una scuola per i consigli alle donne, potenziali vittime di violenza di genere. Lo sciopero dei benzinai resta confermato per ora ma il governo incontrerà le sigle sindacali nuovamente prima del fermo previsto il 25 e 26 gennaio. Assicurato l'avvio di un confronto con il settore che inizierà con un tavolo tecnico fissato per martedì. Stasera dibattito a fair play. Incontro a Gorizia tra l'ex commissario europeo Romano Prodi e l'ex presidente sloveno Tusk necessario subito un allargamento dell'unione a Balcani e Albania finché non ci sarà un accordo con la Cina la guerra non finirà e Gorizia sia modello ad esempio. Tra aprile e maggio del 2022 hanno messo a segno una serie di raggiri che hanno fruttato 100 mila euro in contanti. Per questo motivo tre cittadini italiani dopo la decisione del GIP sono stati posti ai domiciliari a eseguire le misure. La Polizia di Udine. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano torniamo su una vicenda che molti di voi ricorderanno perché destò molto scalpore a Lignano nell'estate 2021 con una ragazza che denunciò di essere stata violentata da altri 5 coetanei. Ebbene oggi è onerso durante l'udienza in Tribunale Udine che la versione dei fatti fornita dalla presunta vittima è gravata da numerose inverosimiglianze non riscontrata dagli accertamenti sanitari eseguiti sulla stessa ragazza. Lo ha affermato il GIP accettando la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura nei confronti dei 5 giovani che erano stati accusati di violenza di gruppo ai danni della 18enne che si trovava in vacanza nella località balneare friulana. Infatti erano accaduti come detto nell'estate 2021. La procura poco prima di Natale aveva avanzato la proposta di archiviazione anche sulla scorta dei messaggi social e delle chat tra le ragazze e i coetanei in cui c'erano elementi tali da far ipotizzare che quanto avvenuto nell'appartamento fosse stato frutto di rapporti consenzienti. Il GIP ha tuttavia disposto l'imputazione coatta per diffusione illecita di video sessualmente espliciti nei confronti di uno degli indagati che aveva inviato immagini intime da alcuni contatti dalla propria messaggeria istantanea. All'agosto del 2021 la squadra mobile di Udine aveva indagato i 5 tra i 17 e i 21 anni tutti italiani per il reato di violenza sessuale di gruppo. Secondo quanto era stato denunciato la 18enne aveva incontrato 3 dei 5 sul lungomare e aveva accettato l'invito a seguirli in un appartamento dove aveva riferito di aver subito da parte dei 3 e di altri due coinquilini giunti più tardi proprio le violenze. Ora è arrivata l'archiviazione. C'è un fatto poi parallelo invece che ci fa rimanere con la lente di ingrandimento sul tema della violenza di genere, sul rapporto nei confronti delle giovani ragazze. Una serie di volantini che sono stati diffusi in un istituto a Cividale proprio per prevenire le violenze di genere ma che hanno scatenato una polemica. Vediamo. Non fate sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti. Evitate di indossare oggetti di valore. Ricordate che l'aggressore osserva e seleziona le vittime anche sulla base di alcuni particolari come gioielli e abbigliamento. Questi alcuni dei consigli alle donne, potenziali vittime di violenza di genere contenuti in un opuscolo realizzato e distribuito dal comune di Cividale nelle scuole superiori della cittadina in collaborazione con la regione. Cartelli di dissenso da parte degli studenti nei corridoi del convito nazionale Paolo Diacono con i giovani che si sono riuniti in assemblea per protestare. Al di là delle frasi definite inaccettabili, la coordinatrice del movimento studentesco per il futuro, Beatrice Bertossi, ha ricordato come la prevenzione delle violenze di genere debba partire innanzitutto dagli aggressori. Una vera e propria condanna a una narrativa tossica che ancora una volta confonde l'approccio e colpevolizza le vittime legittimando in un certo senso l'aggressione. Contro i contenuti del volantino si è schierata anche l'opposizione in consiglio comunale. Siamo senza parole, ha detto il consigliere Alberto Diacoli a nome di prospettiva civica. Sconfortante la superficialità con cui viene affrontato un tema ancora una volta stereotipato per Emanuela Gorgone di CVC. Sembra la ripetizione di un vecchio pregiudizio di una mentalità maschilista in via di estinzione. Attaccato così la capogruppo PD alla Camera Deborah Serracchiani. Il sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, analizza la reazione degli studenti ponendola su un altro piano, finalmente una lettura con spirito critico. Ad ogni modo l'amministrazione si dichiara a disposizione per un confronto con gli studenti e con le scuole per capire quali siano le loro effettive esigenze e rimodellare i contenuti di un opuscolo che voleva essere un momento di riflessione. Una riflessione o forse una lezione che in questo caso sono stati gli studenti a impartire a tutti e che forse testimonia come le giovani generazioni siano più ricettive e più sensibili a tematiche come quella del rispetto, della lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere, anche in quegli aspetti che seppur puramente formali indirizzano un pensiero o un giudizio. E poi ci sono altre aggressioni, quelle ai danni del personale medico e sanitario, ne stiamo parlando da giorni dopo gli ultimi casi che hanno avuto clamore nazionale successi a Udine su tutti, l'aggressione con una guardia medica presa per il collo all'esterno del Gervasutta di Udine. Ebbene stamattina in prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che ha posto sul tavolo alcune delle contromisure. Vediamo quali. Una telecamera che consente al medico di controllare dall'interno del suo studio quanto accade fuori e un numero diretto con le forze dell'ordine per chiedere aiuto in caso di necessità. Sono queste le due misure messe a punto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in prefettura a Udine dopo l'aggressione subita sabato da una specializzanda di 28 anni durante il turno di guardia medica all'Istituto Gervasutta di Udine. Stando a un sondaggio condotto da Nao Assomed qualche mese fa, in tutta Italia si verificano in media 10 aggressioni al giorno nei confronti del personale sanitario. Tra le cause e fattori socioculturali sui quali non è facile agire nell'immediato. Le forze dell'ordine non possono controllare ogni presidio sanitario e allora un aiuto può giungere dalla tecnologia. Abbiamo comunque concordato con le forze di polizia presenti, quindi anche in particolare con quest'ora, la possibilità di avere un contatto diretto, in particolare dalle guardie mediche, quindi soprattutto quelle più sensibili, contatto diretto, quindi una chiamata diretta in caso di evidenze, in caso di situazioni di allarme e di tensione. Ovviamente con l'implementazione del sistema di videosorveglianza che è sempre utile e opportuno, quindi su questo anche l'azienda si è messa a disposizione e darà maggiore rafforzamento dell'attuale sistema di videosorveglianza e in particolare poi anche evidenziando alcune guardie mediche che possono essere più critiche e quindi più soggette a eventuali problemi in prospettiva di tensione o di allarme. Una vigilanza generica radiocollegata in questo momento l'abbiamo valutata, ma insomma tenendo conto quali possono essere le guardie mediche che possono essere a maggior rischio. Adesso noi faremo un'analisi puntuale dei luoghi nei quali fare questo lavoro, poi ogni luogo ha una sua dinamica, la testimonianza del medico che ha subito questa aggressione ha manifestato la necessità non soltanto di una sorveglianza esterna al sistema ma una capacità anche di sorveglianza dall'interno dell'ambulatorio, quindi bisogna capire punto per punto quali sono le esigenze, ormai la tecnologia ci consente di fare queste cose, quindi non credo che sia un problema riuscire a farlo. Lo faremo analizzando i punti di maggiore pericolosità. Forse anche qualche misura esemplare nei confronti di chi aggredisce infermieri e medici che operano con sacrificio a servizio di chi sta male e della comunità tutta sarebbe necessaria, ha osservato Riccardi. Anche l'opera di alfabetizzazione del sistema sanitario deve essere importante, ha concluso il prefetto. I cittadini devono sapere che prestazioni sanitarie e in quali luoghi possono richiedere. Altro vertice si è tenuto a Roma, quello tra il governo e i rappresentanti sindacali dei gestori, dei distributori di carburante. Dopo le polemiche, l'aumento dei costi, dei prezzi di diesel e benzina nelle ultime settimane. Vediamo com'è finita con gli stessi benzinai che hanno al momento congelato lo sciopero, annunciato ieri per fine mese, in attesa poi di un nuovo confronto previsto per martedì prossimo. Con i colleghi delle altre associazioni lo possiamo assolutamente definire proficuo. È stato chiarito quello che è ed è ben chiaro al governo e ringrazio personalmente, ma penso anche i colleghi ringraziano il governo e i ministri che ci hanno accolto. hanno ascoltato le esigenze della categoria e possiamo dire che siamo nella condizione di sentirci abbastanza soddisfatti. Non fosse altro che stato stabilito a breve di incontrarci di nuovo per far partire il tavolo tecnico e emergenziale di settore che chiediamo da tempo. Ma lo sciopero è rievocato, confermato o congelato? Congelato, è congelato. Perché siamo in attesa appunto di capire quando il governo ci convocherà, promesso i primi giorni della settimana prossima per questo tavolo di filiera e anche per far sì che ci sia la possibilità di leggere poi sulla gasetta ufficiale il testo del decreto sulla trasparenza che stanno elaborando. Ma che cosa ha detto il governo? Quali sono le cose che ha messo sul tavolo? Ha messo sul tavolo appunto il fatto che quella bozza di decreto trasparenza che girava non è definitiva, per cui noi ci riserviamo di valutarlo, quindi era uno dei motivi del contendere. Diciamo i rapporti col governo si sono tranquillizzati, abbiamo preso atto entrambi che ci sono state anche delle situazioni di non comprensione reciproca, per cui c'è stata la massima collaborazione diciamo con i ministri e quindi cercheremo insomma di rendere positivo questo incontro anche prossimamente. Il presidente nazionale della FIGIS Conf Commercio Bruno Bearzi Friulano sarà ospite stasera della trasmissione Fair Play a cura di Francesco Pezzella in onda dalle 21.15 che si occuperà proprio del caro benzina. Per quanto riguarda il governo uno dei suoi massimi rappresentanti, il ministro Piantedosi sarà ospite domani a Trieste con un vertice fissato in prefettura per fare il punto della situazione sulla fronte rotta balcanica. Balcani che sono stati anche al centro stasera di un incontro promosso a Gorizia che ha visto l'illustre partecipazione dell'ex commissario europeo Romano Prodi e dell'ex presidente sloveno Turk. In collegamento con noi da Gorizia ha seguito il vertice Francesca Santoro, buonasera. Buonasera David, si parla di Europa a Gorizia nella sede dell'Università di Trieste. Come primo appuntamento del 2023 del ciclo Caffè Corretto Scienza, un approfondimento appunto sul modello europeo. Ospiti Romano Prodi, per due volte presidente del Consiglio, oltre che presidente della Commissione Europea, Danilo Turk che è stato presidente della Repubblica di Slovenia. Quindi due protagonisti della storia dell'Europa dell'ultimo ventennio e sono stati anche protagonisti dell'allargamento dell'Unione Europea alla Slovenia nel 2004. Prodi è proprio tornato alla notte del primo maggio del 2004 quando in Transalpina è stata festeggiata l'ingresso della Slovenia in Schengen. Ha detto che è stata una delle più grandi emozioni della mia vita. Prodi ha parlato insieme a Turk anche della situazione dell'Europa attuale. Ha detto che finché non ci sarà un accordo tra Stati Uniti e Cina, non si arriverà mai alla pace in Ucraina. Ha auspicato l'allargamento imminente dell'urgente, quantomeno dell'Unione Europea, anche i paesi balcanici, all'Albania come presupposto necessario alla pace. Un incontro affollato non solo da studenti universitari ma da tutti i protagonisti di Go 2025, la capitale europea della cultura che unisce Gorizia e Nova Gorizia appunto per il 2025. In tal senso è stata fatta una riflessione anche su questo fronte. Vediamo le interviste che ci hanno rilasciato. Bisogna far presto a chiudere i confini dell'Europa allargando a tutti i paesi dell'ex Jugoslavia e più l'Albania. E facciamo presto perché d'altra parte non portano nessun problema economico perché tutti assieme fanno meno del 2% del prodotto l'orde europeo, quindi non troviamo ragioni che non esistono. Qui ci vuole una volontà politica, ovviamente questo obbligherebbe anche la riforma delle istituzioni europee perché bisogna cambiare i processi decisionali ma è ora che noi lo facciamo. L'Europa è, diciamo così, nelle mani degli Stati Uniti, cioè il potere decisionale dall'aspetto militare americano e finché non faremo un eserito europeo. Deve essere così e da parte russa il ruolo della Cina è dominante, c'è questa posizione cinese del tutto particolare che dice la nostra amicizia con la Russia è fortissima ma i confini non si toccano. Cioè voi capite che questo significa una… e poi non hanno dato ai cinesi neanche un'arma e neanche una… ai russi scusate non hanno dato ai russi neanche un'arma e neanche una pallottola. Ovviamente il modello di Rizia ne stiamo parlando perché tante è stato già fatto nel passato, ovviamente. Non si parla soltanto delle due città ma di un territorio molto più ampio. Pensiamo soltanto al territorio del Collio in Slovenia Berda. Secondo me è uno dei territori più coltivati, più belli d'Europa ed è una dimostrazione di quello che si riesce a fare insieme ed è anche una cosa da valorizzare certamente. Per questo mi sembra molto importante anche il progetto della Capitale Europea della Cultura. Il fatto che si è riuscito di nuovo con tutto quanto è già stato fatto si riesce a costruire ancora di più. Dunque noi siamo un modello, il modello Gorizia è un modello per l'Europa per via di quello che è successo qui. Pensiamo anche del fatto per la Capitale Europea della Cultura della collaborazione in ambiti culturali oltre ai soliti ambiti culturali dei quali si parte. Rimaniamo a Gorizia ma per rilacciare il filo della cronaca perché il legittimo impedimento di uno degli otto imputati ha comportato il rinvio al 3 marzo prossimo del processo per la morte di Stefano Borges. Il 13enne di Gorizia è caduto in un pozzo mentre nel luglio del 2020 stava svolgendo alcune attività ludiche all'interno di un centro estivo. La prima udienza si era svolta stamane ma ha visto soltanto l'immediato rinvio. Lo scorso luglio il direttore della Fondazione Coronini Cronberg che gestisce il parco dove è avvenuto l'incidente Enrico Graziano aveva concordato una pena di un anno e 11 mesi con la sospensione condizionale mentre i due tecnici responsabili del piano sicurezza Federico Costadura e Matteo Turcutto erano stati condannati con rito abbreviato a due anni. Saranno giudicati invece a partire dal prossimo 3 marzo il sindaco di Gorizia, Ziberna, come presidente di diritto della Fondazione Coronini Cronberg e i rimanenti componenti del curatorio della stessa. Marco Menato, l'assessore regionale Gibelli, Raffaella Sgubin, Maddalena Malni, Maurizio Boaro, Bruno Pascoli e Simonetta Bonomi. La polizia di Udine invece ha arrestato tre persone imparentate tra loro per una truffa basata sullo scambio fraudolento di banconote di diverso taglio. Vediamo come. Letteralmente si traduce come affare sporco ma di fatto il rip deal è un'operazione di cambio fraudolente di denaro. La polizia di Udine nelle prime ore della mattinata di oggi ha arrestato tre italiani per tre episodi di questo genere di truffa. I soggetti, due uomini di 27 e 54 anni e una donna di 30, imparentati tra loro, sono stati posti agli arresti domiciliari per furti commessi ad aprile e maggio 2022. I colpi hanno fruttato loro 100.000 euro in contanti. L'attività investigativa condotta dal personale della squadra mobile con il coordinamento del PM e della locale procura ha permesso di far luce sui tre episodi accaduti a Udine e nell'immediata periferia. I tre hanno proposto il cambio di banconote da 500 euro in tagli inferiori, ottenendo un margine di guadagno sull'operazione finanziaria. Tutti i soggetti raggirati erano stati adescati nelle abitazioni degli arrestati dove con destrezza erano derubati del contante inserito in alcune buste appoggiate sul tavolo della cucina con la scusa che le banconote erano state già contate per poi allontanarsi senza essere più rintracciati. Le vittime, una volta accertata l'impossibilità di riottenere mal tolto, si sono rivolte alla polizia. La raccomandazione è quindi di non cedere a proposte finanziarie troppo vantaggiose e poste in essere da persone non autorizzate per evitare di incappare appunto in truffe o furti. Ancora cronaca con un uomo di 40 anni a Trieste che è stato a soccorso nel pomeriggio da un'ambulanza a seguito di un malore che l'ha colto nella sua abitazione all'interno. I sanitari lo hanno trovato riverso a terra, hanno rilevato la presenza del monossido di carbonio, l'uomo è stato trasportato in codice giallo a Cattinara per la sospetta intossicazione. Incidente invece stamattina ad Aviano lungo la Pedemontana con uno scontro frontale tra due auto, un mezzo è finito fuori strada, l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto uno dei conducenti dall'interno della vettura, poi è stato trasferito in codice giallo in condizioni gravi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l'altro conducente invece è stato trasferito a Pordenone. Ora ci occupiamo invece di una polemica a livello europeo legata alle nuove etichette che dovrebbero essere apposte sulle botteglie di vino, una polemica lanciata dall'Irlanda per etichette che avvisano rispetto ai rischi per la salute rispetto al consumo di alcolici. Il mondo del vino del Friuli Venezia Giulia va all'attacco. Il mondo del vino regionale è in allarme per il via libera dato dall'Unione Europea all'Irlanda per introdurre tramite etichette sulle bottiglie avvertenze ai consumatori sulla potenziale correlazione tra alcol e insorgenza di tumori. L'health warning, ossia l'avviso sulla salute per vino, birra e liquori, apre di fatto la strada alla libertà di decisione per i singoli stati membri, con possibili gravi ricadute sul sistema vinicolo del Friuli Venezia Giulia. La salute va tutelata, dice il coordinatore regionale delle città del vino Tiziano Venturini e su questo non si discute, ma diciamo no a opere di demonizzazione e si invece a proseguimento della strada dell'educazione al consumo consapevole. Nella sua posizione il coordinamento del Friuli Venezia Giulia è allineato con l'Associazione Nazionale Città del Vino, il cui presidente Angelo Radica ha fatto appello al governo affinché intervenga in sede comunitaria per difendere un prodotto come il vino al centro della dieta mediterranea. Non è un caso che altri paesi produttori come Francia e Spagna siano sulla stessa linea dell'Italia. Una dura condanna arriva anche dal presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Da una parte c'è il buonsenso, dall'altra l'eccesso di zero dei funzionari di Bruxelles e io ribadisco quello che vado dicendo da un anno, è inaccettabile l'idea di mettere sulle bottiglie di vino etichette che indichino i pericoli legati all'alcol. La senatrice Francesca Tubetti si fa portavoce dell'iniziativa del Dipartimento Agricoltura, invitando a farsi una foto con un bicchiere di vino e a pubblicarla sui social, scrivendo poi nel commento che sono gli eccessi essere problematici e non il moderato e benefico consumo di vino. La politica regionale, ieri vi abbiamo raccontato dell'accordo all'interno delle forze di centro-sinistra per lanciare Massimo Morettuzzo, quale sfidante di Massimiliano Fedriga, in vista del voto per le regionali di aprile. Nel frattempo il Partito Democratico guarda anche alle sue primarie interne. A Udine stamattina si sono ritrovati i colori quali supportano quale nuova segretaria Schlein. Parte da noi. È lo slogan scelto dalla vicepresidente dell'Emilia Romagna, Ellie Schlein, per promuovere la sua corsa alla segreteria nazionale del Partito Democratico. E in regione prende avvio proprio con il comitato che sostiene la sua candidatura, la macchina organizzativa in vista delle primarie del PD, indette per il 26 febbraio. Tra i promotori Vincenzo Martinez, Federico Butò, Sabrina Morena, Renata Bagattin e Anna Paola Peratoner, che non è iscritta al Partito Democratico. Lei ha detto che c'è bisogno di mettere identità all'interno di questo Partito Democratico. Schlein è la persona giusta. Perché? Ecco, il suo slogan parte da noi. Ci spiega che c'è bisogno di innervare il Partito Democratico, di partecipazione, di gente che da fuori con attenzione ci guarda, ha voglia di partecipare a questo percorso. Il Partito Democratico ha bisogno di mostrarsi con una politica opposta a quella che sta governando l'Italia, che è di destra. E quindi noi abbiamo bisogno di iniettare i temi che sono più a sinistra, questo è il nostro contributo, in un partito che tiene vicino la versione progressista e quella liberal. Noi siamo perché in questo momento gli argomenti come povertà, come ecologia, come lotta al precariato siano messi al centro del nostro discorso per recuperare un'identità e quindi un rapporto con chi dobbiamo rappresentare. Nelle ultime primarie ci sono stati circa 25 mila votanti. Secondo lei è un obiettivo, un traguardo che si può raggiungere anche questa volta? Ma sì, io credo di sì, anche se i tempi sono molto stretti. L'importante è che si capisca che c'è la volontà di venire a partecipare, di essere presenti ai gazebi. Se noi vediamo che c'è una mobilitazione, questo serve al PD, ovviamente, ma serve anche alla politica della sinistra e del centro-sinistra italiano. In corsa per la segreteria nazionale del PD, lo ricordiamo, oltre a Elie Schlein ci sono il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l'ex ministro delle infrastrutture, Paola De Michieli, anche lei emiliana, e il triestino Gianni Cuperlo. Non si arrestano invece a Pordenone le polemiche sulla raccolta differenziata con il sindaco Ciriani, che ha detto che la città non è scampia e da Napoli. È arrivata la risposta. La nuova raccolta differenziata a Pordenone è ancora al centro delle polemiche. Il porta a porta, per carta, plastica e secco, abbinato ai bidoni stradali con tessera, per umido e vetro, non è ancora entrato a pieno regime. Sono tanti gli abbandoni selvaggi e sono emersi migliaia di evasori totali in città, che quindi lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti. Il sindaco Alessandro Ciriani, cercando di buttare acqua sul fuoco, ha ammesso che c'è sì qualche criticità, ma Pordenone non è scampia. La voce è arrivata in fretta a Napoli e la risposta non si è fatta attendere. Il presidente dell'ottava Municipalità Partenopea, Nicola Nardella, ha dichiarato che il pregiudizio fa rilasciare dichiarazioni imbarazzanti e ha sottolineato il forte cambiamento di scampie in questi anni, invitando Ciriani a visitare il quartiere per vedere con i suoi occhi la rigenerazione. La tensione resta alta però anche in città. Un noto commercialista ha minacciato pubblicamente un ricorso al TAR contro la nuova tariffa sui rifiuti. La risposta è arrivata direttamente da Gea, che con una nota piccata ha spiegato il nuovo sistema di raccolta a profani e sprovveduti, garantendo l'efficacia del porta a porta. Apriamo la pagina degli spettacoli. Il Friuli Venezia Giulia si dimostra sempre più regione, che è pronta a ospitare la produzione e i girati di serie tv o film pellicole varie. L'ultima, in ordine di tempo, sarà la serie dedicata a Mussolini, promossa da Sky Original, che racconterà la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa del potere del duce. Saranno otto gli episodi in una serie prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Picture, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Patè. E ripercorrerà, come detto, la storia della fondazione dei Fasci dal 1919. Le riprese si gireranno tra Gorizia, Trieste e anche Udine e proprio i casting vedranno protagonisti sia a Trieste, con già l'appuntamento che è stato avanzato l'11 e il 12 gennaio, mentre a Udine, coloro i quali vorranno provare a fare le comparse, potranno recarsi all'Hotella Storia nella mattinata e nel pomeriggio di lunedì e martedì prossimi. Con tutte le informazioni si possono trovare online. I candidati dovranno rispettare alcuni requisiti e potranno poi tentare la carta degli attori in questa serie TV. A Trieste, a proposito di cinema, invece stamattina è stato presentato il Trieste Film Festival. E' questo lo spirito col quale noi accompagniamo i nostri soggetti di produzione culturale, finanziando le loro iniziative. E cioè quello di soddisfare la richiesta di cultura che c'è nella nostra regione, che è molto alta, dati statistici e non affermazioni vaghe dell'assessore Vanaglorioso, Vanagloriosa nel mio caso, ma anche cercare di portare sempre un pezzettino di cultura diversa in più. Ci sono persone che amano il cinema, ma che magari trascurano altri aspetti del mondo della cultura e che invece vengono aiutate a scoprire questi altri aspetti. Per esempio, anche quest'anno c'è qualcosa che si fa con i musei, qualcosa che si fa con le scuole, con gli studenti. Ci sono tante aperture verso segmenti di produzione culturale che non riguardano il cinema. E invece il focus sul cinema è un focus importante. E il rispetto della vocazione del Trieste Film Festival, che si occupa di cinema, mitte l'europeo sostanzialmente e continua a farlo. Ma continua a farlo sia con proposte che vengono riproposte, perché sono storia, sia con il nuovo che sta arrivando. Siamo in chiusura, vi ricordiamo il programma per la prima serata su Dinese TV, TV 12, con gli appuntamenti dedicati al campionato, il venerdì del direttore, cartellino giallo con Tommaso Cerno. E poi in prima serata, a 21.15, fair play con Francesco Pezzella, si parlerà del pieno salato, dove è la vera speculazione sul fronte carburanti. L'informazione invece tornerà col TG Nota alle 22.30. Grazie per averci seguito, le previsioni del tempo e l'augurio di una buona serata. Ben ritrovati amici di Udinese TV, da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una situazione meteo tranquilla nella giornata di sabato sul friuli Venezia Giulia. Il tempo si presenta e mantiene stabile assolato. Al più velato si tratta di nubi stratificate che nella seconda parte del giorno potranno anche offuscare il cielo, ma non comporteranno conseguenti effetti. Ora andiamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà tra porti e non e Udine. Situazione meteo buona e quindi tempo stabile, assolato, qualche nube innoqua di passaggio, ma di poco conto, temperature minime e prossime allo zero. Clima dunque freddo nella notte e all'alba, ma non particolarmente in giornata, poiché le temperature di orne, come osserviamo, saranno nuovamente prossime ai 10-12 gradi. Ma vi anticipo che da domenica sera, ma anche nella nuova settimana, non arriverà l'inverno vero, poiché giungeranno correnti artiche. Ora osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste. Un sabato con tempo stabile e soleggiato, qualche nube innoqua anche qui, ma di passaggio, di poco conto. Temperature di orne che torneranno a toccare picchi di 12-13 gradi sul comparto costiero. Dettagli maggiori sulle vostre località, sempre sulla nostra, app e gratuita sul sito trebimeteo.com Grazie per la visione!